Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto, dedicato anche quest'oggi all'analisi del voto del 10 marzo. Ormai sono passate quasi due settimane dalla espressione elettorale degli abruzzesi che ha confermato il Presidente Marsiglio e la sua proposta politica. Con noi un consigliere regionale rieletto della maggioranza, capogruppo uscente di Fratelli d'Italia, Massimo Verrecchia. Buonasera a tutti voi, grazie direttore per l'ospitalità. Grazie a lei per aver accolto l'invito nostro del dialogo con i telespettatori di Rete8. Partendo proprio adesso, sono passate ormai due settimane, avete fatto già dentro Fratelli d'Italia, questo è avvenuto proprio l'altro pomeriggio, una disamina più a freddo del voto, degli aspetti positivi, degli aspetti meno positivi e soprattutto riuscire ad intercettare l'espressione degli abruzzesi rispetto al gradimento dell'Aggiunta Marsiglio che ha prevalso sulla proposta di Luciano D'Amico, ma anche questo tema dell'astenzionismo che preoccupa in linea generale un po' tutti. Adesso che si può dire sul voto del 10 marzo, Verrecchia? Innanzitutto di ringraziare coloro che hanno con il loro voto determinato l'esito di queste votazioni, che sono andate, come sappiamo tutti, a favore del nostro Presidente Marsiglio, segno di riconoscenza del buon lavoro e della proposta che abbiamo comunque evidenziato in campagna elettorale. La provincia dell'Aquila, come ha già ricordato lei direttore, abbiamo affrontato nel coordinamento provinciale un'analisi del voto perché la nostra provincia, quella dell'Aquila, è quella che ha raggiunto la maggiore percentuale nel centro-destra e in particolare anche di Fratelli d'Italia e quindi ci ha riempito d'orgoglio e soprattutto di gioia in prospettiva anche di scenari futuri. Dal punto di vista della qualità della squadra della proposta politica c'è stata una riconferma in gran parte della squadra degli amministratori uscenti in tutte le forze della coalizione. Ci sono volti nuovi anche a Palazzo dell'emiciclo che arriveranno, altri che subentreranno, suppongo, con le surroghe dei vari assessori, ma in generale si può dire che il giudizio sui cinque anni è stato positivo da parte degli abruzzesi? Assolutamente sì, il voto ne ha certificato questa bontà, la maggior parte degli uscenti sono stati riconfermati e quindi è ovvio che viene premiato il lavoro da loro svolto. È stata una campagna elettorale, come sappiamo, molto impegnativa anche per la questione psicologica che era tornata ribalzata nella nostra regione a seguito dell'esito della Sardegna, che giustamente la maturità degli elettori ormai scindono e si informano su cose in realtà totalmente differenti e a differenza, scusate la previsione di parola, con quanto volevano sostenere la sinistra che pensavano di poter avere quest'onda che proveniva dalla Sardegna, ma come avete visto si è infranta al primo scoglio. Ecco, Brecchia, che cosa è accaduto in generale in provincia dell'Aquila e in particolare nel Capologo e nella Marsia, che sono due realtà solitamente divaricate anche per quanto riguarda a volte i risultati elettorali, affinché vi fosse invece questa sorta di plebiscito per il centrodestra? Sì, abbiamo lavorato molto, la nostra lista è stata la più competitiva, soprattutto anche nel territorio marsicano, abbiamo raggiunto numeri elevati che hanno determinato anche proprio l'elezione in modo forte del Presidente Marsilio, perché abbiamo rivindicato e lavorato sulla bontà di cose che si facevano sul territorio. Hanno creduto nella nostra offerta politica, così come nei risultati raggiunti, vedasi il nuovo ospedale di Avezzano, vedasi la tratta Pescara-Roma, vedasi il lavoro impegnativo verso il mantenimento del Tribunale, vedasi per quanto riguarda l'attivazione di infrastrutture come l'Interporto, fermi da 30 anni, insomma degli obiettivi raggiunti in modo indelebile da parte del centrodestra e dell'amministrazione marsilio, a differenza, e qui non è stata credibile, di un'opposizione che negava questi fatti evidenti. Nello scorso conclusivo soprattutto della legislatura, lei da capogruppo di Fratelli d'Italia si è visto, riconosce un po' da tutti il ruolo in qualche modo di ambasciatore degli accordi all'interno della coalizione, a volte anche con la minoranza a Palazzo dell'emiciclo. Ecco, è iniziata già, questo ci può dire, il centrodestra, una fase di negoziazione, di confronto su quello che sarà il nuovo assetto del governo regionale, Verrecchia, ci dica la verità. Ancora no, ancora non abbiamo interloquito, ci sono delle interlocuzioni informali, ma aspettiamo il ritorno del Presidente e noi proprio lunedì abbiamo un coordinamento regionale come Fratelli d'Italia, poi avranno il compito i partiti di sedersi ad un tavolo anche con il Presidente e quindi senz'altro si darà frutto all'esito delle elezioni in termini di rappresentanza. Per il lavoro svolto in emiciclo, sì, ho svolto il mio dovere, quello di dialogare con tutte le forze politiche presenti all'emiciclo, trovare spesso delle mediazioni, cosa che c'è riuscita e che è un dovere da parte nostra percorrere quella strada il più possibile. In particolare adesso mi viene in mente, proprio in riferimento alla circoscrizione dell'Aquila, questo tema anche di rappresentanza democratica che si porrà nei prossimi cinque anni, perché su sette consiglieri ce ne sono sei del centro-destra e soltanto Pietrucci del centro-sinistra. Ecco, c'è bisogno in qualche modo anche di rappresentare le esigenze di tutti, anche di quelli che non hanno votato nella gestione di questo consenso così ampio. Avvertite questo surplus di rappresentanza necessaria da super vittoria in qualche modo? Ma è ovvio che dobbiamo tener conto di questo dato, soprattutto anche, e parlo diciamo dei risultati che sono emersi, di un voto in particolare il sottoscritto ha avuto un esito favorevole su tutto il territorio provinciale in maniera omogenea. E quindi mi sento di rappresentare tutta la provincia dell'Aquila e a seconda dei ruoli anche la regione Abruzzo. Come ci ricorda sempre il Presidente Marsilio, noi siamo consiglieri regionali e non certamente solamente circoscrizionali o provinciali. Quindi è il nostro dovere rappresentare anche quelle aree che sono sprovviste di rappresentanza e anche ascoltare la parte in contrapposizione, avversa comunque all'opposizione per le loro istanze che dovessero emergere, sia da chi le rappresenta in Consiglio, sia dalle associazioni o parti sociali che dovessero emergere. Sì, in effetti c'è anche un'altra parte della provincia dell'Aquila alla quale non abbiamo fatto riferimento che è quella dell'area Peligna dove ad esempio Marianna Scoccia in coalizione con voi ha ottenuto un ottimo risultato che ha permesso di eleggerla con la lista noi moderati. Però c'è tutto l'alto sangro, c'è tutta una parte di territorio che in qualche modo va rappresentato e che ha premiato con risultati molto lusinghieri la proposta del centrodestra. Mi viene in mente ad esempio Castel di Sangro dove c'è stata questa famosa polemica che è durata anni circa la scelta di ospitare il Napoli. Ecco, la provincia dell'Aquila ha tanti volti, ma per esempio appunto quello dell'alto sangro come pensate di rappresentarlo nella prossima legislatura? Innanzitutto con l'alto sangro c'è un buon rapporto con l'amministrazione che guarda caso e non a caso il presidente della provincia è proprio di Castel di Sangro e quindi noi abbiamo un'interlocuzione fluida con gli amministratori e anche come partito abbiamo candidato un rappresentante dell'alto sangro. Nelle votazioni però, come sappiamo, i posti a disposizione sono quelli che ne determinano poi le elezioni e quindi abbiamo comunque voluto rispettare quelli che erano tutti gli ambiti del nostra realtà territoriale, sia dell'Aquilano, della Marsica, della Valle Peligna e dell'alto sangro. Adesso anche, come ho prima detto, andremo a rappresentare e ascoltare le istanze anche di chi non ha eletto nei propri territori dei rappresentanti, perché noi siamo i rappresentanti dell'intera provincia dell'Aquila, delle aree interne e quindi dell'Abruzzo. Questo nell'attesa che questa che inizi sia la legislatura costituente per quanto riguarda una nuova legge elettorale, un nuovo assetto della rappresentanza e l'elettorato passivo in questa regione. Riuscirà Marsilio a coronare questo suo desiderio, questo impegno che lui ha messo anche tra i punti del suo programma elettorale? Ci sono le condizioni per ottenere una larga maggioranza sulla riforma elettorale, secondo lei? Secondo me ci può essere con un lavoro serio. La proposta del Presidente Marsilio non è certamente peregrina, anzi è una proposta che toglie i muri e crea dei punti tra gli altri ambiti provinciali. Siamo dei rappresentanti della regione, ci vorrebbe un collegio unico regionale e anche un allungamento delle liste per consentire anche a più persone di candidarsi. Questo favorirebbe la più ampia partecipazione e soprattutto eliminerebbe spesso quei campanili che sono più negativi che positivi. Ed eliminerebbe anche questa suddivisione di risorse per consiglieri, che è stata un po' la pratica non soltanto di questa consigliatura ma anche delle precedenti. Ma sul resto quando ci sono dei territori che devono essere rappresentati non si va all'Ico la calcolatrice ma si va con i programmi. Se alcuni programmi hanno possibilità di essere finanziati certamente avranno l'apporto da parte di tutti. Dobbiamo fare un'analisi seria, matura, questa maggioranza si pone con l'esperienza che c'è di fronte a obiettivi importanti da dover completare e quindi penso che alcune prassi possano essere ridimensionate. Intanto in attesa dell'insediamento del Consiglio regionale, la cui data dipenderà dalla conclusione dei lavori della Corte d'Appello proprio in questi giorni, in queste ore per la convalida degli eletti, la politica va avanti. Ci sono anche delle decisioni rilevanti dal parte del Governo nazionale che riguardano l'impianto dell'ultimo esercizio finanziario della Regione. Ce le vuole spiegare, ci spiega anche come la Regione si è orientata verso una sorta di desistenza sulla questione del borsacchio. Sì, il Governo ha impugnato una parte, un articolo della legge di stabilità che riguarda il recupero dei sottotetti, una materia che spetta allo Stato e quindi un conflitto con l'articolo 117 della Costituzione. Quindi è ovvio che andremo a risolvere con un impegno da parte del Presidente e quindi della Regione Abruzzo a rivedere quella norma e non penso che possano esistere poi ulteriori problemi. Per quanto riguarda invece la parte della riserva del borsacchio, apriremo un'attenta riflessione e quindi analizzeremo questi aspetti con molta pagatezza e lontano dall'agonismo elettorale. Un'ultima domanda, insomma io cerco sempre un po' di andare sul gossip, è giusto che la politica è anche questo, c'è qualche retroscena che si cerca di far cogliere i nostri telespettatori. Sarà un'aggiunta, secondo lei, glielo chiedo come pronostico, molto molto diversa dalla precedente di Marco Marsiglio? Sarà un'aggiunta uguale per quanto riguarda l'impegno e il lavoro che andremo ad affrontare. Negli equilibri, negli uomini sarà cura di tener conto l'esito elettorale, i numeri e quindi anche la rappresentanza dei partiti all'interno della nostra maggioranza che insieme al Presidente andranno ad affrontare. È ovvio che i pronostici non possono farsi se non attraverso degli equilibri già consolidati per quanto riguarda i numeri dei partiti e delle loro rappresentanze. Non penso che ci saranno problemi nella composizione perché abbiamo interlocutori che hanno espresso maturità e lo hanno dimostrato. È l'unica amministrazione che non ha operato rimpasti o crisi o liti a cui gli abruzzesi hanno potuto assistere nelle precedenti legislature e quindi non penso che inizieremo questa con cose che abbiamo evitato di fare nei precedenti cinque anni. Massimo Verrecchia, alla luce dell'ottimo risultato personale, ha delle ambizioni personali da voler far valere in questo negoziato oppure come al solito sarà in qualche modo più ambasciatore che uno che pensa per se stesso? Io penserò alla mia regione, al mio territorio e quello che vorrà il Presidente Marsilio e il mio partito sono a disposizione, quindi per il ruolo che riterranno opportuno mi adeguerò mantenendo bene un obiettivo fondamentale, che la nostra regione sta facendo un salto di qualità e ha necessità di risollevarsi da determinate anche situazioni che abbiamo ereditato dal passato. Ci stiamo riuscendo, quindi c'è da rimborcarsi le maniche. A tempo pieno dedicherò il mio tempo a disposizione della mia regione e dei miei concittadini. Grazie, grazie Massimo Verrecchia, capogruppo uscente e consigliere rieletto di Fratelli d'Italia. Grazie ai nostri telespettatori. Appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata del Fatto. Anche questa sarà mirata sul nuovo Consiglio regionale. Conosceremo un altro o un'altra eletta nell'Assemblea legislativa abruzzese. Arrivederci.